Devi proteggere la famiglia tua, non la mia. Nonostante io non uscirò di casa, vi farò vedere che ci sarà qualcuno che verrà a trovarvi. So dove abiti e ve la farò pagare. Ma secondo te io il Kalashnikov ce l'ho a casa, io ce l'ho nei terreni e se vuoi venire toglite la divisa e te lo faccio vedere. Ma da uomo a uomo. Il boss nel suo delirio criminale minaccia e Leone Soriano, il capo di una famiglia andranghetista violenta e parassitaria. L'ufficiale dell'arma che con una sfrontatezza sfida mentre lo arresta è il maggiore Valerio Palmieri, capo del nucleo investigativo dei carabinieri di Vibo Valencia. L'episodio è ricostruito in uno dei nuovi capi di imputazione formulati dalla direzione distretto all'antimafia di Catanzaro a carico dello stesso Soriano, destinatario con altri otto esponenti della cosca di Pizzini di Filandari, dell'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP Pietro Carè, nell'ambito del secondo step dell'operazione denominata Nemea. Da poco scarcerato, Soriano è stato già imputato per mafia in un processo ragno dalla storiera occambolesca. Fu addirittura graziato in primo grado. Per il tribunale di Vibo, che a suo tempo lo giudicò, l'andranghet agisce in silenzio. Lui, Leone Soriano, troppo rumoroso. Nel suo feudo, auto saltati in aria, bombe, incendi, tombe apprese a colpi di pistola. No, non poteva essere un mafioso, uno che agisce così, almeno per il tribunale di Vibo. E i pentiti che lo accusavano di essere il capofamiglia? La famiglia, sostenevano i giudici del primo grado, era da intendersi in senso anagrafico, non mafioso. Sentenza ribaltata in secondo grado con una dura condanna. Ora si attende, dopo un annullamento con rinvio, una nuova sentenza d'appello. Attenderà in galera, ciò mentre a queste latitudini lo Stato si mostra presente, forti unito come mai prima d'ora, e cioè i clan, a gente come Leone Soriano. Fa paura. Da Vibo Valencia per la CINUS24.